altro test questa volta utilizzo il microfono sul pc quindi il blue yeti una mia cuffia personale che uso su pc e le impostazioni sono sempre a manetta nel senso che abbiamo sempre 60 megabit per secondo e 60 fps e io gioco come un cane perché a forza di parlare non capisco più quello che devo fare e infatti faccio cazzate però questo è quanto avete più che altro le due prove iniziali sono per farvi vedere la differenza audio tra il microfono quello delle cuffie e questo blue yeti e quindi la possibilità di utilizzare sia uno che l'altro cosa che non è per tutti o da tutti perché comunque molti sistemi di acquisizione o potete fare una cosa o l'altra ma tutte e due no e direi che merita veramente tanto il test sta per finire perché come vi ho detto magari sono tanti tanti mega e niente il test finisce qui mentre io mi sto per andare a piantare sicuramente con un bel freno a mano